Per semplificare l'attività commerciale, hai la possibilità di accedere e gestire facilmente tutti i follow-up per l'assistenza programmata successiva da un'unica posizione. In questo modo, i clienti riceveranno un promemoria tempestivo in prossimità della scadenza dell'assistenza successiva. Vediamo da vicino questa funzione. Clicchi sulla scheda di registro follow-up, quindi clicchi qui. Quindi seleziona un intervallo di date per i follow-up. Nell'esempio, selezioneremo le due settimane successive. Dall'elenco dei follow-up di assistenza puoi vedere la scadenza, il nome del cliente e i dati di contatto, oltre all'assistenza programmata successiva. Le date di promemoria per l'assistenza successiva, mostrate qui, sono state programmate dal consulente assistenza durante l'ultima prenotazione di assistenza per il veicolo. È importante che in questa fase, siano stati inseriti email e numero di cellulare corretti. Inviare promemoria via email o SMS è veramente semplice utilizzando questi comandi. Per inviare un promemoria via email, clicchi qui. Le caselle vengono automaticamente selezionate per i clienti che contatterai. Potresti anche scegliere di deselezionare una casella, se volessi escludere alcuni clienti dai promemoria. Seleziona qui il modello del messaggio. In questo caso, selezioneremo il promemoria di assistenza. In questa sezione, puoi vedere un'anteprima delle mail che verrà inviata al cliente. Clicchi su Invia, quindi su OK. Verrà inviato un messaggio personalizzato a tutti i clienti selezionati dalle caselle di controllo. Se la concessionaria ha attivato la funzionalità SMS, lo stesso processo, può essere eseguito nel momento dell'invio di promemoria via SMS. Una volta che il cliente ha esaminato l'email, deciso come procedere, e preso contatto per accordarsi sull'assistenza, puoi registrare le preferenze del cliente nel sistema. In questo caso, il cliente ha deciso di accettare. Facciamo clicco su Accetta per accettare il lavoro. In alternativa, possiamo cliccare per accettare il lavoro, e creare un nuovo appuntamento. Rimane solo da stabilire una nuova data, e un nuovo orario, e quindi cliccare su Eseguito. In questo modo, verrà assegnato automaticamente un nuovo numero di intervento per il follow-up. Torniamo adesso alla schermata follow-up per analizzare altre opzioni. Se il cliente rifiutasse l'assistenza, seleziona il motivo che meglio corrisponde alla situazione, quindi clicchi su Non accetto. Se preferisce essere contattato per discutere dell'assistenza in un momento successivo, seleziona la voce corrispondente dall'elenco a discesa. Aggiungi una data di follow-up, quindi clicchi su Li programma il follow-up. Una volta registrata la risposta del cliente nel promemoria, hai completato tutto il processo. È da questa sezione, che vengono automaticamente memorizzati nel sistema tutti i follow-up completati, così potrai eccedervi per esaminarli in qualsiasi momento. La tempestiva funzione di promemoria per l'assistenza successiva, sottolinea l'attenzione posta al cliente, e permette al personale di assistenza di contattare i clienti, ed effettuare follow-up con più sicurezza.